Gentili del spettacolo dei protagonisti in compagnia di un'attrice che io ho trovato interpretativa lungo le sue corde musicali, si intende, che ho trovato estremamente interpretativa, oltre che ironica, lei è la romana Martina Stavolo. Buonasera, buonasera a tutti. Ci incontriamo in occasione di questa Kermess, appunto la quarta edizione del Valselle Film Festival. Quanto è importante valorizzare Kermess come questa, affinché poi i giovani possono avvicinarsi anche alla cultura, oltre ad educarli? Guarda, io da giovane in primis ho 25 anni, quindi veramente sono una di loro, e sono contenta di essere qui proprio per questo, perché Kermess di questo tipo e di questo genere servono sicuramente ai ragazzi della mia età, ma anche più piccolini, insomma, per dimostrare il loro talento e per poter finalmente entrare nel mondo dello spettacolo e non... Insomma, questa sera, artisticamente parlando, siamo proprio al massimo, nel senso attori, cantanti, musicisti, chi più ne ha più ne metta, quindi perché no, questi ragazzi hanno questa opportunità e io sono contenta di essere qua a tifare per loro. A proposito di tifare, io so che tu le tue corde le hai sviluppate guardando soprattutto da piccolo quando non erai, no? Ti sei informato, ragazzo studia, hai visto? Sì, 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 io ero proprio la classica bambina davanti alla tv che sgambettava davanti a Ambrangiolini e tutte le ragazze di non erai, sì, fin da piccola, insomma, sempre studiavo danza, canto, recitazione, tutto. E grazie a quella gavetta, poi hai ambito altri palcoscenici, no? Io ho fatto la gavetta vera, nel senso che fin da 9-10 anni ho cominciato a cantare in un gruppo di ragazzi, un gruppo vocale, e facciamo le piazze vere, sai quelli, i propri spettacoli, due ore e mezzo, tre ore, in cui devi intrattenere la folla. Quella è stata una grandissima scuola per me, perché spezzi un po' il rapporto col pubblico e non hai più problemi di disinibizione, e è importantissima la gavetta, quindi la consiglio anche ai ragazzi presenti qui di fare, fare il più possibile di tutto. Posso dire che il tuo carattere forte, la tua personalità accesa, vedendo un po' quella che è stata la tua carriera finora, è stato un limite e non un vantaggio? Ma guarda, ti dirò, nel senso io sono la classica che a scuola faceva casino, se si può dire casino, esatto, e sì, sono un po' forte nei toni, però insomma quella a casa mia si chiama grinta, non so a casa dove si chiama, però diciamo, caparbietà, esatto, quindi perché no, poi insomma uno cresce anche, no? Se a 21 anni fai delle cose che a 25 non rifaresti, sembrano pochi anni, invece le esperienze poi ti fanno crescere e capire tante cose, io a 25 anni voglio solo cantare, recitare, fare quello che mi piace fare, quindi... A proposito di capire, quella famosa canzone censurata, che non si sa ancora per quale motivo, anche lì che strascico ti ha lasciato? Ma guarda, ti ripeto, secondo me, insomma, scusa se te lo dico, però insomma è una domanda un po' noiosa, nel senso che... Ha fatto abbastanza battaglia, sì, nel senso, è stato detto già tutto, tante cose, è stato detto un po' di tutto, io sono contenta, è un bellissimo periodo per me, sono serena, sono felice, faccio quello che mi piace fare nella vita, e quindi voglio dire, mi dovresti chiedere cosa stai facendo in questo momento, non mi chiede il passato. Ok, allora artisticamente, in questo momento, stai lavorando a che tipo di produzione? Sto lavorando a un po' di progetti di vario genere, quindi anche cinematografici, per questo anche sono qui, non è niente a caso, caro, quindi stiamo lavorando a un cortometraggio, molto bello, interessante, proprio improntato su di me, sono la mia personalità, e stiamo lavorando a un nuovo disco, e guarda, ti dico una cosa, però non ti posso di tutto, ma ti accenno, esatto, stiamo lavorando a un progetto oltreoceano, un po' lontanuccio, un po' come i tuoi orizzonti figurativi, spazi e ci porti ovunque. Bravissimo, io sempre lontano, guarda, hai capito tutto? Può essere che lì diventi universale in tutti i sensi. Capito? Può essere, che ne sai? Ci sa mai la vita? Con questo faccino delicato. Ci sa mai la vita? Senti Martina, la trasmissione sono i protagonisti, col tuo slang, un saluto a chi ci sta guardando in camera. Un bacione grande ai protagonisti. Ciao!